propongo la perplessità di Zeus dice ma io voglio uscire lì c'è una porta io so che lì c'è un terrazzino però finché non metto tutti i legni e non ne ho neanche più tanti dovrò fare una cosa in vetro lì non ci puoi andare perché devi sempre guardare quella porta della serie apriti sesamo fammi vedere il tuo musino com'è molto perplesso stai parlando con la porta è vero? io ti conosco